mister sarpero finalmente abbiamo rimesso i piedi in campo il lavoro non si è mai fermato neanche durante queste feste natalizie avete lavorato tanto e credo che oggi si sia visto questo grande lavoro risultato tondo 5 a 0 raccontaci la tua partita bene dai abbiamo una partita difficile comunque perché quando riprendi poi sei motivato a far meglio però per noi è una partita in meno l'obiettivo e sono contento davvero di tutto e credo che secondo me la partita tecnicamente importante abbiamo messo il lavoro che abbiamo fatto l'abbiamo visto in campo e tutto merito dei ragazzi che stanno davvero lavorando e raccolgono i frutti del loro lavoro c'è stato anche un rientro in campo di uno dei senatori dello spogliatoio finalmente abbiamo rivisto da monte credo che insomma sia un recupero per noi importante perché comunque è un ragazzo che non ci ha mai mollato anche da infortunato è sempre venuto la rosa finalmente si sta tornando ai livelli che eravamo all'inizio perché abbiamo giocato tante partite che eravamo contati o comunque con pochi giocatori siamo allenati anche con tanti ragazzi all'ignore per superire le assenze e dai speriamo di averli tutti fino alla fine perché davvero c'è tanta concorrenza e le squadre dietro di noi stanno viaggiando e noi vogliamo prenderci il campionato e chiudere al meglio come abbiamo chiuso a dicendo perfetto mister allora avanti così come sempre e ora il tuo momento ora il mio momento ma dopo la prima birra pensiamo già alla partita di domenica che è davvero molto difficile